Consumi idrici, fatture, orari di apertura degli sportelli sono i tre aspetti affrontati rispetto all'attività di Blea Acqua e dall'esponente di sinistra italiana Modica Vito D'Antona. Come noto spiega D'Antona, in queste settimane stanno pervenendo fatture per il pagamento e il consumo di acqua da parte di Blea Acqua S.P.A., società costituita dai comuni della provincia che dall'anno scorso gestisce il servizio idrico per conto dei 12 comuni. Moltissime fatture relative ad un consumo stimato di acqua per il quarto di messe 2023 con scadenza 30 giugno 2024 risultano contenenti un consumo da pagare molto più alto di quello effettivo. Mentre Blea Acqua annunciava che dal 6 novembre 2023 sarebbero state avviate le attività per rilevare i consumi effettivi a fine anno, prosegue D'Antona, pare probabile che tal appedempimento non sia stato effettuato, per cui le fatture pervenute ancora una volta, come accaduta a settembre 2023, contengono delle stime spesso non corrispondenti alla realtà. Di fronte a tale situazione riservare soltanto due giornate per ricevere il pubblico, nonostante la disponibilità del personale addetto, provoca file interminabili e rappresenta un disservizio che va eliminato. Riteniamo che l'amministrazione comunale, atteso che il comune è socio, come gli altri comuni di Blea Acqua, debba agire tempestivamente a tutela dei propri cittadini, intervenendo sulla società, chiedendo l'immediata sospensione della scadenza delle fatture emesse in queste settimane, procedere alla lettura dei contatori e all'emissione delle fatture esatte, conclude l'esponente di Sinistra Italiana Modica, pretendendo inoltre più giornate di apertura degli sportelli per ricevere l'utenza.